Ragazzi, benvenuti e benvenuti nel canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su Marvel Ultimate Alliance 3 Sentite il silenzio perché siamo pronti per andare a riprenderci, o meglio sconfiggere Thanos e riprenderci tutte le gemme, ci riusciremo? Cattolamente questo è il video, questo è il video su, un commento e un bel hitage Perché stiamo a mano a mano beccando sempre più persone Siamo sempre amici, eh Ti dico sempre lo stesso, se eravate da soli, corcavolo Dovremmo avere parecchia energia, infatti ho fatto bene a non consumarla Ok, ok Non vi abbiamo fatto niente Questa è forte, questa, questa è forte Bravo Torre, ma non è stavita una mazza A volte è strano Sembra che non gli riusciamo a togliere niente e poi Vediamo un po' se riesco a farlo solo Ok, è andata, è andata, è andata Ok Grazie, merci Fino a ti tolgo la protezione ce la facciamo Dai che ce la facciamo Grande danno, grande danno, grande danno Ok, voi state ancora qua Ok Oh, attenzione spazio Ci abbiamo ancora No No C'è solo Black Panther a carico Capitano è un po' in difficoltà Aspetta, aia Vai, non fa niente, non fa niente Proviamo Almeno che abbiamo tolto parecchio adesso Oh, attenzione Allora, è quasi morto Allora, è quasi morto Allora, ci la facciamo No Devuto Allora Siamo in difficoltà Perché non gli ho tolto niente Attenzione, attenzione Ok, meno male Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta Tanto questi sono deboli Oh, perdon Scusate Anche ora E la gemma Che figata Scusate 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 Allora, immagina Scusate 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 Salva Scusate 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 Ok 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 Mazzate abbiamo tolto Abbiamo tolto già un sacco di protezione Sì però stiamo anche schiattando Anche tanto schiattando Ok Adesso ne abbiamo tre cariche Appena lo riusciamo a ristordire Attacchiamo Aia Allora io non credo che sia molto resistente ai danni Però quando colpisce Fa male Nel senso che No 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 C'è la con noi Dai la luce Dai la luce Sì che è morto Vai Ero che non ci dà problemi Vai vai Thor vai Questa battaglia servono tutti Che cavolo Che f***o È andato è andato Non lo vedo ma è andato Di là stai Porca mia Dai che stordito Dai tagliamocene di più Quanto più possibile Immaginabile Mazz Dai dai Il problema è che imparare Che ogni volta Che lui colpisce Fa un sacco di danno No 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 Ok l'ho beccato però Mamma mia così È andato Andato Dov'è No Ma che cavolo È recuperato pure un po' eh Non è che ce la facciamo eh Chi è che sta ancora carico Ghost Il fatto Lo devi fare anche tu eh Oh 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 Quasi è andato Quasi è andato Se riesco a recuperare un po' di energia No Non ce la facciamo Quando sto rischio Non ce la faccio Agia Ghost Rider sta morendo Agia Ok 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 Allora c'ho Ghost Rider Che Potrebbe farcela Non lo facciamo morire Dai È anche stordito È anche stordito Qua un po' osato Forse Pensavo di farcela Distruggerla completamente Agia Agia Forse con toi ce la faccio Forse con toi ce la faccio Ancora Ancora Ce la facciamo Ce la facciamo E muori Con un po' di grazia Di Black Panther Oh È messa al miece di no Oh It ends For once you are correct Father You may have dreamed of oblivion But madness clouded your vision Ok Ma ti schiericolo Noi This universe This universe deserves so much more Something only I can give it You've got it all wrong son Ah but you will run to my mind my friends I am not my father I am something far better Che cavolo Che cavolo Porca miseria ragazzi E ta non si schiera con noi What have you done What have you done What you never could Father I won You don't have to do this thing It's over Thanos is defeated So how about you take off that crazy armor and we can talk this through No more talking You got it But if you expect us to believe you're tougher than Thanos because you put on some old suit You don't need to believe I'll show you Marca miseria non me l'aspettavo Ah quindi adesso ci possiamo becchere anche a Thanos Where are we? I've never seen anything like this The center of the universe The birthplace of the stones The heart of infinity How fitting then that the place Where all things began Is where your pathetic existence Will finally come to an end Mom che violenza Vedo che c'è proprio affetto fa padre e figlio eh This universe will be mine alone to destroy child Even if I must save it from you First Ragazzi Thanos sta con lui eh Thanos mi raccomando eh Giocatela bene sta partita Ma che c'è la stessa tattica di tuo padre Va bene non l'avete abbastanza forte ma dovremmo vedere i danni come li fa Ok Tutto shock è andato Bello vai L'abbiamo anche estordito Sì stessa tattica del padre Grande Che c'è Che c'è Che c'è Che c'è Che c'è Eh Rock Che te parte facile qua Che sono ste cose ma Thanos ma che ti fai? Te la passeggi? Eh Eh Quanto sei bellino Il minimo che puoi è darci una mano Ok Vorrei riuscire a recuperare Un po' di energia Al prossimo stordimento Forse ce la facciamo No non ce la faccio ancora Non c'è nessuno carico ancora Voi parlate Non è che vi ascolto Tanto Oh c'ho capito in America che sta a carico Aspetta aspetta che adesso Appena gli tolgo la prima cosa Non ce la faccio così Non ce la facciamo Non ce la facciamo Thanos ti dico la verità eh Questo continua a parlare ma Non ho notato Un grandissimo affetto Lo Black Panther lo lasciamo sempre da solo Nel senso Che peccato che non ci avevo energia massima Di Black Panther Al momento giusto Aspetta vai Se no non ce la faccio Un po' di protezione Uh c'è la carica Ok beccata Dovrebbe essere quasi andato Pena riesco a caricare Ce la facciamo Da là Da là Dai che quasi fatto Si è caricato un'altra volta Sto bastardo Torro sei massima a terra No torrino salta Torri Ehi torrino Oh che fai Dai 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 Questi continuano a parlare Da 20 minuti Dovrebbe essere Cos'è andato Vai stordici Stordici Torri Porca miseria Non ci avevamo L'energia al massimo Di nessuno Ok meno male Schiattato Schiattato No Non schiattato Ma porca miseria Guardi 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 Chi è che sta ancora a carico Allora mi sa che Ecco bravo Se ti sposti è meglio Vai Forse ce la facciamo ancora Questi continuano Dopo le dovrò leggere Tutte queste cose È quasi fatta È quasi fatta Aspetta Capitano 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 Dovresti farcela Se lo colpisci inoltre Poi ce la fai A recuperare un po' di energia Io penso che tra un po' Arriviamo al massimo Ed usiamo tutti Capitano è quasi morto È per morto Dai Torr Se mi colpisci in altra voce La facciamo Torr Oh Torr Non ce la fa ancora Vai vai E dammelo l'altro No Che bastardo Non me l'ha dato Vediamo sta cavo di protezione A questo Mamma mia È morto È morto È schiattato Eh Questo ti abbiamo fatto Tu hai fatto Tu hai fatto Tu hai fatto Tu hai Tu hai La seconda Tu hai Cosa Tu esi Tao Fai Che che ho deciso di prendere solo uno di loro bambini. Tu lo sai? Ovviamente. E più importante, io lo sai meglio. Dobbiamo fare qualcosa. Non c'è nulla cosa che può essere fatto. È solo un ragazzo. Un ragazzo che cercano di essere un dottore, ma non siamo così diversi. Cosa stai facendo adesso, tyranti? Cosa che dovrei fare molto tempo. È proprio bello, l'orca mi si era. Ancora. Ancora. Oh. Ancora. 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 però la storia mi è piaciuta veramente tanto soprattutto perché non è stata per niente ma per niente banale sfido chiunque che è arrivato a un certo punto tutti quanti pensavano beh si dai ok poi sconfiggiamo Thanos ci pigliamo le gemme e buonanotte invece no hanno cambiato certo il gioco è quello che è su console un pochettino soffre ma non i filmati è la giocabilità però chi conosce Marvel Ultimate Alliance sa bene che il gioco è così è fatto in questo modo hanno ammesso che faranno anche verrà molto supportato giuggeranno altri personaggi e già ce ne sono veramente tantissimi dovrebbero raggiungere anche personaggi con storie quindi gioco molto cioè punto molto su questo titolo secondo me dovrebbero fare parecchie belle cose vabbè chi può dirlo poi lo sapete benissimo fino a quando non mettiamo su mano sulle cose veramente è meglio non buttarsi avanti tra l'altro poi se non mi sbaglio qualcosa dovrebbe uscire già a fine mese fine agosto spero naturalmente che questa serie vi abbia fatto piacere questa serie estiva l'ho fatta un po' cercandola di portarvi di farvi vedere tutto anche tutti i vari potenzialmente e scegliendo parecchi personaggi ve lo sapete benissimo che a un certo punto molti personaggi non potevano essere scelti del tipo Iron Man era tipo a tredicesimo livello quindi mi sarebbe morto all'improvviso e subito scrivetelo sotto nei commenti se anche a voi vi è piaciuto naturalmente questo è un video questo è un bel commento un bel impiace ci vediamo se non è possibile bye